Ciao a tutti, siamo al tazzo di oggi, faremo un gioco che ho scaricato sul mio telefono, ovvero le acque e banditon. Bravissimo! Uè! Alla faccio il tuo cazzo! Alla faccio il tuo cazzo! Alla beh! Uè! E' la faccio il tuo cazzo! E' la faccio il tuo cazzo! E' la faccio il tuo cazzo! Comunque raga, potrei saltare in questo video un padre che baserei io, poi il vostro caro Mike, Gaming for Tube e Hand. Lo smash è qui. E' la faccio il tuo cazzo! E' la faccio il tuo cazzo! Porca miseria! Ultimo imbattuto! E quindi raga Ci rivenessimo video Ciao